Allora bene, buonasera a tutti e a tutti. Benvenuti in Arcadia e grazie anzi per essere qui presenti così numerosi in una serata in cui il protagonista sarà niente meno che colui che da anni è il nostro fidatissimo segretario, cioè Fidalce Ladonio, ovvero Riccardo Gualdo. Riccardo oltre a fare il segretario dell'Arcadia è socio dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana e della mai troppo venerata Accademia della Crusca, è stato anche presidente dell'Associazione Italiana per la Terminologia e membro del Comitato Scientifico della Rete di Eccellenza per l'Italiano Istituzionale. Insegna linguistica italiana presso l'Università degli Studi della Tuscia dopo aver insegnato per lunghi anni la stessa disciplina presso l'Università di Lecce. Allora io Riccardo guardando il tuo curriculum insomma ieri, l'altro ieri, a un certo punto ho detto ma Riccardo è un linguista militante perché insomma lui ha svolto sempre una grande appassionata attività di formazione per gli insegnanti delle scuole superiori ma ha anche organizzato e diretto corsi di scrittura universitaria, dirige la sezione di lingua e letteratura italiana dell'iniziativa, titolo, l'Accademia dei Lincei per un nuovo insegnamento nella scuola organizzata appunto dall'Accademia dei Lincei. Si è occupato anche di didattica dell'italiano come lingua straniera e di didattica dell'italiano per gli immigrati, anche con un'attività che raccontava prima nelle scuole elementari, pensate, e si è occupato della lingua del cinema, della lingua della televisione, si è occupato anche della lingua del doppiaggio e si è occupato tanto di scrittura giuridica, non studiando il linguaggio dei giuristi che so medievali, ma si è occupato di scrittura giuridica nel senso della formazione, con corsi rivolti ai giuristi, corsi di italiano giuridico per i giuristi, insomma chi legge le leggi attuali sa quanto ce ne sia bisogno, corsi rivolti a magistrati, avvocati, anzi è responsabile di un progetto PRIN, responsabile diciamo di un'unità locale di un progetto PRIN che si intitola Atti Chiari, proprio sulla scrittura degli atti processuali. E anzi ha pubblicato anche un titolo, un articolo che si intitola Elogio della raccomandazione, che sembra un titolo di campanile, però va letto il sottotitolo che è analisi linguistica di sentenze e relazioni della Corte dei Conti. Là invece sul versante della ricerca scientifica, diciamo così, canonica, vi segnalo che ha collaborato alla redazione del vocabolario della lingua italiana Treccani e all'edizione Mondatori dei Poeti della Scuola Siciliana. Ha studiato tanto e continua a studiare la lingua scientifica italiana, direi dai primi secoli a oggi, proprio alla contemporaneità, quindi insomma con lo spettro più ampio possibile e ha pubblicato, ha un catalogo notevolissimo di monografie e articoli su temi che vanno dall'influsso dell'inglese sull'italiano, sul linguaggio contemporaneo delle scienze, il linguaggio della politica, il linguaggio del diritto, il linguaggio del giornalismo, il linguaggio della pubblicità. È da poco uscito per Carocci l'ultimo dei tanti volumi di cui è autore o coautore o curatore, ovvero una introduzione ai linguaggi specialistici che è uscito nel 21. Allora oggi ci parla proprio di un linguaggio specialistico, anche se insomma un linguaggio specialistico che è insomma di ampio, di amplissimo spettro e ce ne parla in un periodo che per l'Arcadia è stato diciamo annetto di Bettinelli e compagni un'età del loro e quindi io lo ringrazio per essere qui e gli cedo la parola per parlarci di conversare di scienza senza l'aiuto di linee e figure a punti linguistici su Algarotti e Mascheroni. Grazie Riccardo. Devo accendere? Questo è già collegato? Grazie. Ringrazio molto il custode generale di Arcadia anche per la cortese sollecitudine con cui insieme a Pietro Petteruti Pellegrino mi ha convinto a cimentarmi nella relazione di oggi. Purtroppo è molto triste che non sia con noi Rosanna Pettinelli, insieme a lei di cui conservo il carissimo ricordo, vorrei anche ricordare Giovanni Dann che con Luca Seriani e Rino Avesani ha sostenuto il mio ingresso in Accademia molti anni fa. Devo infine un ringraziamento in questi tempi così difficili per l'accesso alle biblioteche che sembrano ormai più contagiose delle pizzerie a Umberto D'Angelo, direttore dell'Angelica e ai bibliotecari di questa biblioteca e alla bibliotecaria del polo della mia università Clotilde Valeri che mi ha aiutato nel recuperare molti testi sui temi che tratterò questa sera. Dunque siamo a Bologna intorno al 1733 il giovane Francesco Algarotti chiede al suo maestro Francesco Maria Zanotti, astronomo e matematico, un parere sull'idea di esporre le teorie ottiche di Newton in un dialogo galante alla maniera degli entretiens sur la pluralité des mondes di Fontenelle. Zanotti è perplesso probabilmente anche perché teme che l'opera possa essere messa all'indice. Leggiamo nella prima diapositiva, testo uno delle fotocopie, il ricordo di Algarotti. Il nostro, come vedete, non desiste e procede spedito nel progetto. Nel 1734 il primo dei sei dialoghi è pronto, ad altri cinque si dedicherà durante un successivo soggiorno in Francia. L'ultima edizione esce a Milano nel 1737, due anni dopo arriverà puntualmente la censura. Il giudizio critico sulla qualità del newtonianismo non è benevolo. Voltaire, inizialmente entusiasta, cambia presto opinione, giudicando Algarotti un cattivo imitatore di Fontenelle e aggiungendo, quasi con le stesse parole di Zanotti, che la fisica di Newton non era adatta alle dame. L'opinione di Baretti e di Bettinelli su Algarotti è ben nota, come pure, al contrario, l'apprezzamento che molti anni dopo esprimerà Pietro Verri nelle pagine del Caffè. Tra i lettori moderni, Ettore Bonora, ed editori moderni, parla di una prosa agghindata e di decorazioni estrinseche attinte da un galateo mondano, ben altrimenti limpido e persuasivo gli sembra lo stile di Paolo Frisi. Di sicuro Frisi e con lui tutta la generazione del Caffè andò più avanti di Algarotti nel cammino verso la sintassi diretta e il moderno stile scientifico, ma il genere cui appartengono gli articoli del Caffè è un altro e sarebbe sbagliato aspettarsi dal newtonianismo per le dame uno stile adatto a riviste o pamphlet divulgativi. E comunque, a parte alcune concessioni al toscanismo di maniera o alla leziosità dei diminutivi, e a parte le digressioni su momenti della vita mondana o anche le similitudini galanti, uno dei sette colori dell'iride è paragonato al color porporino di una bella guancia, il testo procede in modo agile e le spiegazioni sono chiare ed efficaci. Sul piano dei contenuti, gli studi recenti hanno apprezzato la competenza e la serietà dell'esposizione della fisica di Newton. Certo, non mi azzardo a esprimermi sul tema della presenza di Newton in Italia nel primo Settecento, né a ragionare sul ruolo delle donne nella cultura anche scientifica del secolo, due temi ai quali negli ultimi anni sono stati dedicati molti approfondimenti. Mi interessa invece seguire lo spunto offerto dal dubbio di Zanotti. Si può parlare di scienza senza le figure e le dimostrazioni geometriche? Non curante dell'ammonimento del maestro, Algarotti si affida alle sue parole, come avrebbe potuto fare altrimenti durante una mela passeggiata a lungo rive del Garda. Ricordo che quando l'anonimo narratore dei Mond di Fontenelle si era offerto di spiegare alla Marchesa i rapporti tra i pianeti tracciando un disegno sulla sabbia del giardino, lei aveva opposto ferma resistenza per paura che quei disegni dessero al suo parco un'area troppo dotta, troppo erudita. L'intenzione è espressa chiaramente da Algarotti nella lettera prefatoria. Le linee e le figure sono affatto sbandite come quelle che darebbero a questi discorsi un'area troppo dotta e che metterebbe un parura a coloro ai quali si vuol piacere per istruirli e si sfuggono quanto si può il più i termini di matematica. Non si può nemmeno dire che la scelta teatrale del dialogo dipenda dal fatto che l'ascoltatrice sia una donna. Molte donne avevano assistito alle sperimentazioni veneziane e bolognesi della diffrazione della luce e che il pubblico femminile si interessasse agli esperimenti scientifici è fatto ben documentato nella prima metà del secolo. Certo, come è stato notato, le donne partecipavano come ascoltatrici silenziose generalmente, ignare di scienza. A fine Seicento avevano più spazio e attenzione solo nei circoli romani di Cristina di Svezia e dunque in Arcadia, dove le poetesse erano accolte anche se non aristocratiche. Negli anni in cui scrive Algarotti ci sono casi isolati e celebrati di protagonismo di alcune donne filosofe, ma il giudizio degli osservatori uomini rimane sempre sospettoso. Algarotti dunque si appoggia a un topos, a un cliché letterario, secondo cui la finzione dialogica e quella poetica sembrano più adatte al pubblico femminile della dissertazione del trattato. Il modello dichiarato è senz'altro Fontenelle, tuttavia nel terzo libro dell'Arcadia di Crescimbeni, 1708, Crescimbeni aveva poeticamente immaginato le ninfe come visitatrici della capanna del pastore Nitilo. Nella finzione pastorale Nitilo altri non era che Leone Strozi e la sua capanna racchiudeva il teatro di maraviglie di una collezione antiquaria che aveva provocato la curiosità delle ninfe. Delle collezioni scientifiche parlerò brevemente più avanti e torno al nostro Algarotti, che offre dunque un tributo a un genere testuale già da tempo alla moda in Francia, un genere che prevede la mimesi della conversazione galante. Nella prossima diapositiva, numeri 2 e 6 della fotocopia, ha raccolto alcuni passi. Vediamo come al numero 2 la Marchesa interrompe il cavaliere rimproverandolo di non darle il tempo di comprendere le spiegazioni troppo tecniche. Sono poi frequenti le interrogative didascaliche e le risposte a eco, molte le allocuzioni, le esclamazioni, le ripetizioni, un apparato teatrale già sperimentato da Galileo. Torno invece alla questione di come spiegare la scienza senza formule e figure. Algarotti dichiara subito la difficoltà di trattare questioni di ottica, cito, senza avere alla mano quei vetri, ondessa, l'ottica, procede armata e senza i quali non si può venire a capo di quella scienza e soprattutto senza l'aiuto della geometria. Come procede dunque la trattazione della materia? La soluzione è quella di raffigurare oggetti e concetti attraverso similitudini concrete e familiari. Una volta definiti i figuranti di queste similitudini, tanto il cavaliere quanto la marchesa potranno usarli come termini della riflessione scientifica, facendo progredire a piccoli passi la conoscenza dei fenomeni naturali. Nella tessitura testuale varrà la pena notare come le entità descritte e immaginate si possano quasi assimilare agli oggetti di quella che in linguistica testuale è definita la deissi fantasmatica. I referenti non ci sono ma li si evoca come se fossero presenti, esattamente come in un divertito gioco teatrale, ci si può riferire a cose, ambienti, persone che si muovono sulla scena rappresentata. Non leggo gli esempi della quarta depositiva che sono dai numeri 9 e 7 a 9 della fotocopia. Chi scrive può riferirsi agli oggetti presenti nel campo indicale dei due parlanti per descrivere un fenomeno fisico. Il fatto mi pare ben chiaro nell'esempio 7. Sul piano terminologico, Algarotti mette in scena nel primo dialogo i dadi e poi i globetti con cui indica i componenti più piccoli della materia nella fisica cartesiana e poi i vortici che danno origine alle stelle e quindi decadendo ai pianeti. Globi, globetti, materia globulosa tornano a più riprese nel testo a rafforzare un lessico evidentemente metaforico ma adatto alle necessità divulgative. A quel punto non sarà difficile introdurre anche tecnicismi di grado basso o medio come le particelle o come i prismi, inizialmente chiamati vetri a tre facce e paragonati a quegli stipetti che sogliono porsi negli angoli delle stanze. Ugualmente, quando nel secondo dialogo spiegherà le obiezioni di Malbranche al sistema cartesiano, parlerà prima di vorticetti e di ondeggiamenti dei suoni e della luce, per poi passare al più tecnico moti di ondulazione, tra l'altro una delle prime attestazioni di questo termine nella fisica in italiano. Non si tratta ovviamente di esperienti originali e dunque non insisto oltre. Vorrei però notare che nella tecnica del dialogo divulgativo ormai si è raggiunta una facilità che permette al genere di consolidarsi tra le forme testuali più adatte alla comunicazione scientifica e a contrapporsi a soluzioni diverse, pure disponibili agli scienziati del tempo. Torna utile, credo, per insistere sull'assenza di disegni e formule matematiche, leggere nell'esempio 8 come la Marchesa commenti la spiegazione del Cavaliere sul fenomeno della diffrazione. Come ognun vede, la dama semplifica molto la questione e il Cavaliere è costretto a fare quelli che chiama una serie di giocolini sulle curiosità della diffrazione e a prodursi anche in uno di questi giocolini con una moneta e un catino di porcellana, prima vuoto e poi riempito d'acqua. Si vede al numero 9 il passo. Ma la spiegazione resta di tipo impressionistico. Al massimo Algarotti enuncia un principio che non si traduce in formule o disegni precisi, come si vede subito dopo. Proviamo ad apprezzare la distanza tra il dialogo di Algarotti e un testo appartenente a un genere diverso, ma ugualmente nato per la divulgazione. Nel 1733 era uscita a Venezia la traduzione italiana dell'opera di Henry Pemberton A View of Sir Isaac Newton's Philosophy. Vediamo nella diapositiva come Pemberton descrive gli stessi fenomeni. È il numero 10 della fotocopia. Le formule sono assenti, ma ci sono diretti e puntuali riferimenti alle incisioni che corredono il trattato. Le figure sono stampate in appendice, su fogli ripiegati lungo il lato verticale, che il lettore può aprire e consultare facilmente mentre legge. Nella diapositiva che vedete ora c'è un altro frammento di testo e appunto la fotografia dell'illustrazione che si può poi allargare e leggere riprendendo il testo dall'altra parte. Il passo è il numero 11 delle fotocopie. Segnalo che Pemberton fa gli stessi esempi di Algarotti, naturalmente perché il modello è Newton, la luce di una candela e la rifrazione di un oggetto immerso in un catino d'acqua. Come è noto nel progetto di rinnovamento del sapere degli enciclopedisti francesi, intorno agli anni 50 del 700, la rappresentazione visiva delle cose è centrale. Algarotti è ben consapevole di questa centralità già negli anni 30 del secolo. Tutto il discorso dei dialoghi è stato osservato, è intessuto di una metaforica che trasforma e rinnova l'antica equivalenza tra occhio e conoscenza sintetizzandola nell'espressione occhi scientifici, in cui la visione degli occhi della fronte si combina con quella leonardiana degli occhi della mente. Si può seguire l'itinario di questo interesse in diversi momenti della vita di Algarotti, quando cerca di procurarsi i volumi e le tavole illustrate dell'Encyclopedia per la biblioteca dell'Istituto delle Scienze di Bologna, quando studia l'arte della guerra ricordando i modelli in legno di fortificazioni e strumenti militari, le mappe, i plastici dello stesso istituto, o ancora quando celebra le illustrazioni archeologiche delle antichità di Palmira, realizzate negli anni 50 dai disegnatori al seguito di Robert Wood. A coronare un lungo studio sui fenomeni della visione, nel breve dialogo sensista caritea, composto nel 1764, suo ultimo anno di vita, Algarotti scriverà che la vista è come una lingua che si apprende con l'uso. Vengono alla mente le parole che Giuseppe Baretti userà solo un anno dopo nel primo volume della Frusta letteraria. La vera autentica lingua dei libri, insomma la vera lingua nazionale, cito, è sempre stata una lingua atta a esprimere ugualmente cose piane e cose astruse, cose sublime e cose basse, cose serie e cose burlesche, cose grandi e cose piccole, cose di tutte l'arti, cose di tutte le scienze, cose di tutti i paesi e cose in sostanza di tutte le cose. In quello che è stato chiamato giustamente il secolo delle cose, il nesso tra parole e cose, scusate l'insistenza, oggetti percepiti dai sensi e descritti con le parole o con altri strumenti è evidentissimo. Vorrei sottolineare la concomitanza temporale degli interessi di Algarotti per la rappresentazione visiva e materiale degli oggetti della conoscenza con due fatti rilevanti per la storia dell'enciclopedismo in Italia. Le traduzioni della Cyclopedia di Ephraim Chambers, avviate alla fine degli anni 40 del secolo a Venezia, a Napoli e a Genova, e poi ancora a Venezia i meno fortunati progetti di opere enciclopediche concepite e scritte in Italia, quello di Giovanni Francesco Pivati e quello mai portato a compimento di Alessandro Zorzi. Tra i sottoscrittori dell'edizione veneziana del Chambers troviamo molti intellettuali illustri, come il Muratori e il Caloggerà, ma colpisce anche la forta presenza di religiosi, professionisti e funzionari della burocrazia medio-bassa, un ceto che si stava rivolgendo a questi prodotti editoriali per aggiornarsi sul progresso delle conoscenze geografiche, scientifiche e tecnologiche. I nuovi studi su traduzioni, rifacimenti e redizioni dei monumenti europei del tempo stanno confermando, quanto già si sapeva, sui canali di diffusione della cultura nell'Italia settecentesca, non solo nelle accademie e non solo nei nostri centri maggiori e più noti. Sui risvolti linguistici di questa produzione sarebbe utile soffermarsi. Mi limito a segnalare il progetto di recente, scusate, avviato di recente di una rete di ricerca sulla storia dei periodici europei. Torno al newtonanismo per le dame. La Marchesa provvista di sensata curiosità, non sfuggirà l'uso dell'aggettivo galileiano, chiede lumi al cavaliere ricordando l'aggiunto, cioè l'aggettivo settemplice, attribuito alla luce nel verso di una canzone, fatta in onore della filosofessa di Bologna. Il verso è quello che leggete, o dell'aurata, i versi sono quelli che leggete, o dell'aurata luce settemplice, vario ardenti e misti, almi colori. La filosofessa bolognese è Laura Bassi, una delle pochissime donne scienziate del primo settecento, i versi sono dello stesso Algarotti. Avrete notato l'uso dell'aggettivo alla greca, un modulo che da Chiabrera arriverà alla poesia neoclassica, passando per le liriche soprattutto giocose di tirambiche della prima Arcadia. L'altro aggettivo settemplice meriterebbe una più lunga digressione che vi risparmio. La recita di poesie scientifiche in latino e in italiano è generalmente considerata già nel primo settecento un efficace strumento divulgativo e ancora negli anni sessanta i giovani ribelli milanesi del caffè continuavano ad attribuirle un ruolo nell'illustrazione dei progressi della scienza come strumento di partecipazione al dibattito civile. Sul rapporto tra poesie e scienze, Algarotti esprime un giudizio interessante in una lettera del 17 ottobre 1759, il testo che vedete nella dipositiva, numero 13 della seconda pagina delle fotocopie. Si può descrivere un fenomeno scientifico in un sonetto, quattordici versi, in un breve poimento. E oggi i più aggiornati studi dei neuroscienziati sulla memorizzazione mediante i versi sembrano dar ragione al lungo successo della poesia di Daskalica, che proprio in Arcadia trovò alcune delle sue più riuscite espressioni. Meno adatta nel giudizio di Algarotti è la forma del poema. Eppure è proprio un poema, una ben ampia composizione di quasi 600 endecasillabi sciolti, quella che Lorenzo Mascheroni dedica nei primi giorni del 1793 a descrivere il Museo di Pavia alla Contessa Bergamasca Paolina Secco Suardo Grismondi, cioè lesbia sidonia. Lo spunto è l'agoniata visita della Contessa, visita più volte promessa e altrettante volte rinviata. L'incontro avverrà finalmente nel maggio di quello stesso anno. Mascheroni immagina di percorrere insieme alla sua ospite le stanze del Museo di Scienze per illustrarne le meraviglie. Il suo coinvolgimento è così appassionato che alla fine del poemetto, quando sta proponendo a lesbia di rientrare dalla visita, si accorge che si era trattato di un'illusione. Sono i versi al numero uno della fotocopia. Eppure, mentre li percorre tutto l'itinerario, è sempre l'esempio numero uno, verso i centrali, gli era sembrato addirittura di sentire le parole della donna. Noto il ricorso a un espediente di animazione e l'interruzione improvvisa della frase, indicata nel primo verso dai puntini di sospensione, che è una formula ben attestata nella poesia arcadica fin dalla stagione del Crescimbeni. Nella visita Mascheroni segue un percorso topografico, l'aula di fisica, la biblioteca, infine l'orto botanico. È stato osservato che il passaggio da una sala all'altra non è segnalato in modo esplicito nel testo. È vero, al lungo prologo introduttivo di oltre cinquanta versi, segue senza soluzione di continuità l'introduzione al museo. È vero anche però che il testo dell'invito è punteggiato da riferimenti alla visione degli oggetti raccolti nelle stanze e nelle vetrine. È dunque lo spostamento dei visitatori e dei loro sguardi a scandire il percorso. Leggiamo come nei versi dal 27 al 30, esempio 3, si apre la galleria dei ritratti dei professori di Pavia. Una formula analoga è usata ai versi 297-98, esempio 4 della fotocopia. In alcuni momenti Mascheroni sembra proprio seguire la visitatrice mentre si muove da una vetrina all'altra. La curiosità di Lesbia, per gli esemplari della sezione teratologica, è introdotta di nuovo da un riferimento ai suoi cupidi occhi. Poco oltre, l'autore sollecita e accompagna lo sguardo della donna è l'esempio 6. E si legga ancora l'esempio 7. Nell'ultima citazione si noterà il segnale discorsivo più tipico della descrizione. Ecco, per chi ama i tecnicismi linguistici, un focalizzatore in funzione deittica o presentativa. Ritroviamo ecco anche nei versi dedicati agli animali esotici. Ecco il lento bradipo, il simo urango, ecco il lurido pipa. Riferimenti diretti all'ostensione degli oggetti sono anche i dimostrativi deittici che ho raccolto dal numero 8 in poi negli esempi. Vedete la diapositiva. Si vede in particolare l'esempio 9 a proposito della collezione di farfalle allestita da Lazzaro Spallanzani, è il classico che si va a mostrare la collezione di farfalle. Descrivendo i monstra raccolti nella sezione terratologica, esempi 10 e 11, Mascheroni combina la deissi e il coinvolgimento dello sguardo di lesbia. L'ultimo esempio, 11, si riferisce ai fossili raccolti nel monte Bolca, presso Verona. Nei versi dell'esempio 12 sono invece mostrate le pietre di origine vulcanica. La teatralizzazione della passeggiata nel museo avviene anche mediante l'allusione a un fittizio dialogo tra lesbia e l'autore guida. Per esempio, dopo che quest'ultimo le ha mostrato le diverse conchiglie raccolte in una vetrina. è il testo 13. L'esempio 13 è interessante anche perché propone un modulo tipico della comunicazione divulgativa, cioè la reticenza dello scienziato di fronte ad alcuni misteri della natura. Se ne serve anche Algarotti nei suoi dialoghi, quando parla dei misteri della filosofia alla quale voi domandate a sé più che la non può veramente rispondere. Passo ora a considerare come Mascheroni addomestica gli argomenti scientifici. Per prima cosa merita attenzione l'architettura paratestuale. Nel passaggio dalla seconda edizione pavese alla terza e definitiva pubblicata a Milano tra il luglio e l'agosto del 93, Mascheroni introduce un apparato di note e nel testo la numerazione a margine dei versi. Tanto le note quanto la numerazione che aiuta la lettura combinata di versi e note sono attestati anche in altri poemetti didascalici, ma non erano la norma. Passando al vocabolario è stato osservato che Mascheroni introduce un numero non eccessivo di tecnicismi, inserendoli nel tessuto poetico con le tecniche descritte da Luca Serianni e Carlo Enrico Roggia, mediante adattamenti fonomorfologici come la diastole, i popotamo, colubri, con le classiche inversioni anastrofi, elettrica scintilla o la solcata mammella arma di spina e il balbarico cactus e soprattutto mediante la pedifrasi, forato ferro, schioppo pneumatico in nota, vetro obliquo prisma, mirabilaure, ossigeno e idrogeno in nota, anglico cristallo in microscopio. Mascheroni ricorre anche alle figure retoriche classiche dell'ipotiposi e della personificazione, come quando chiama l'algebra taciturna perché non ha molta comunicativa. L'attributo può servire a illuminare con una parola più nota un significato già presente nel nome scientifico, ma forse non subito accessibile dal lettore comune, il lento bradipo. Oppure evoca visivamente un aspetto dell'oggetto, per esempio quando descrive le occhiute leggerissime farfalle. Occhiuto è un aggettivo di tasso della minta a proposito delle penne del pavone, più interessante e leggerissime, che è più prosastico che poetico. Come ha giustamente segnalato Roggia, la perifra si corrisponde all'istanza poetica di sollecitare l'immaginazione dando a idee e oggetti evidenza sensibile. Nel frammento retorico della configurazione di parole e cose, Mercolio Cesarotti scriveva che la perifrasi mette chi ascolta o legge nella situazione di chi primo ha ricevuto la impression dell'oggetto, perché lo rappresenta con tutte le sue qualità. E già Cesare Beccaria, nel frammento sugli odori apparso nel 1764 nel Caffè, aveva scritto che la forza principale della poesia consiste nel percuotere più sensi in una volta e nel dipingere le immagini che appartengono a un senso coi colori di un altro. Mascheroni, matematico illustre prima che poeta, segue con scrupolo nei suoi versi, apprezzati dal vecchio e severo Parini, le regole della poesia neoclassica e più specificamente arcadica, e anche nella sintassi pesca in un repertorio ben consolidato, per esempio isolando all'inizio del verso il pronome personale oggetto come piaceva proprio al Parini. I versi dell'invito sono talora veri pezzi di bravura. Le annotazioni, su cui ora torno un momento, sono didascalie scientifiche. In assenza dell'oggetto e del suo simulacro figurativo, alcune perifrasi potrebbero risultare del tutto oscure al lettore. Era proprio quello che succedeva alla Marchesa nelle pagine dell'intonianesimo di Algarotti. I versi sulla luce settemplice la lasciavano confusa, ne sembravano geroglifici, e rimproverava così il cavaliere. Non vorrete voi averlo dato una donna, la famosa filosofessa di Bologna, per modo di non essere inteso forse da un'altra donna? Proprio a esplicitare le metafore poetiche servono le annotazioni. Un caso chiarissimo è la descrizione degli esperimenti chimici, esempio 14 nella fotocopia. Mascherone spiega la nota così, spiega in nota così, unione di alcol o spirito di vino raffinato con lo spirito di sale ammoniaco aerato, ossia con liquore della carbonata ammoniacale. L'integrazione delle note svolge un'essenziale funzione divulgativa, è nettissimo loiato tra ingenua meraviglia del verso e rigorosa razionalità scientifica delle note. Da una parte parole poetiche generiche, liquida vena, confuso umore, o al limite parole comuni come massa concreta, facilmente comprensibile ma imprecisa. Dall'altra parte, nelle note, il tecnicismo sale ammoniaco aerato, glossato con liquore della carbonata ammoniacale, tanto per essere più chiari. Mascherone non ritiene necessario spiegare l'immaginifica descrizione della diffrazione della luce, ottenuta grazie al prisma nella camera ottica, esempio 15, dove si noti l'arcobaleno è chiamato raggio settiforme come il settemplice di Algarotti. Forse non immediato sarà stato comprendere che all'ombra in senna significa nell'oscurità. In ogni caso la visitatrice rimane ben distante, concretamente e nella funzione poetica, dalla sperimentazione che non vede e può solo immaginare o ricordare, non certo di petre. Nel rapporto tra la poesia e la collezione del museo si realizza un curioso scambio di funzioni. Le note servono a comprendere i versi. I versi dell'invito sono stampati in alcuni dei cartellini delle vetrine. Del resto, tre anni dopo, Alessandro Volta, di cui Mascherone riassume in alcuni versi la polemica con Galvani, citerà proprio l'invito, a conforto della validità delle proprie teorie, in una lettera al chimico tedesco Friedrich Wenn. Irene Botta, che ha pubblicato l'invito nel 2000, l'edizione che ho seguito, osserva come in più occasioni Mascherone dia conto nei versi dei più aggiornati dibattiti scientifici. Un indizio interessante mi sembra, per esempio, che nelle note scriva al lettore leggansi i giornali scientifici. Mi avvio a chiudere. Strano, avevo l'impressione di essere ancora all'inizio. Ah che non può sugli ingannati sensi desir che segga della mente in cima, come dice Mascherone. Con Mascherone si compie una parabola che origina dalla Roma del Tardo Seicento. Quasi cento anni prima, l'astronomo e arcade Francesco Bianchini, stimato da Newton e Vico, scriveva nella sua storia naturale le parole che leggete nell'ultimo testo della fotocopia. Bianchini paragona la storia alla pianta di una città e si ripropone poi di figurarne l'immagine, figurare il verbo usato dagli artisti, come un corpo di elementi tra loro dipendenti e interconnessi. Di costruire e poi riprodurre la rete che tiene insieme il mondo naturale e il mondo umano nella storia e nelle scienze, è l'intento da cui muove il collezionismo riudito secentesco. Dal collezionismo enciclopedico, che trova appunto a Roma alcune delle sue più straordinarie espressioni, da Kircher a Chigi, Ottoboni, Falconieri e appunto Leone Strozzi, discenderà a metà del Settecento la nuova concezione illuministica del Museo pubblico. Il nesso tra Bianchini e l'ambiente bolognese, in cui matura l'operetta di Algarotti, è ben noto. C'è però un altro legame che tiene di nuovo insieme Mascheroni e Algarotti. Quest'ultimo, nel 1742, aveva collaborato all'allestimento del Museo di Dresda, avviato da Federico Augusto di Sassonia, scrivendo un progetto che sarebbe stato realizzato solo qualche decennio più tardi. Credo che vada sottolineata la coerenza con cui Mascheroni si inserisce in un percorso di musealizzazione della scienza, ispirato ai principi dell'illuminismo, alla cooperazione tra parole e cose e alla loro rappresentazione visiva. Il Museo di Pavia, il cui nucleo iniziale risale al 1771, è un prodotto esemplare del riformismo illuminato di Maria Teresa e poi Giuseppe II d'Austria. La passeggiata scientifica del Mascheroni e di Lesbia nelle stanze delle meraviglie delle collezioni di Pavia ha anche almeno un altro importante antecedente scenografico, la prima incisione in rame della Metalloteca, Roma 1717, di Michele Mercati. Vi si raffigura all'allestimento museale nel cortile del Belvedere in Vaticano. La dialettica tra nature innalzata d'artificio nel museo e artificio umano ridotto nel tempo a rovina naturale è una sintesi mirabile della concezione di uno spazio da attraversare, nel quale appunto passeggiare ammirando le vestigia naturale e umane del passato e anche i monstra nature e le macchine inventate dall'uomo. Nei decenni in cui a Roma soprattutto maturano le ricerche antiquarie non mancano le descrizioni poetiche in latino e in italiano di oggetti meravigliosi, di pietre, animali o anche di strumenti scientifici. Esemplari sono i distici latini Nature et Artis Varia raccolti negli Arca Don Carmina, pubblicati tradotti e commentati da Marco Guardo. In quei distici a dominare l'estetica del frammento, il piacere di fissare nei castici epigrammi l'emozione di fronte alla certi del passato, che emergano da uno scavo o che appaiono improvvisamente in un bosco. Diversa e più in linea con la conversazione galante è la scelta di Mascheroni, che pare più suggestiva accostare all'intuizione di una lettura dinamica dei quadri disposti come le pagine di un libro affrontate che aveva immaginato nei primi anni del Cinquecento Giulio Camillo per la galleria di Francesco I a Fontainebleau. La costante è l'idea del museo come spazio di interpenetrazione tra la natura innalzata d'artificio e l'artificio ridotto in rovina. Che assuma le vesti del dialogo o che si trasforma in verso, la descrizione delle meraviglie naturali e sperimentali di Algarotti e Mascheroni omette consapevolmente di appoggiarsi alle immagini. Sono le parole, grazie all'arte dell'autore, a formare la tela del quadro filosofico, come scrive appunto Algarotti nelle prime pagine. Ho accennato prima le traduzioni ai progetti originali di enciclopedie e dizionari universali. Anche quelle opere notoriamente sono ricche di apparati illustrativi. Negli stessi decenni le illustrazioni assumono un ruolo sempre più rilevante nella trattatistica e nelle riviste erudite specialistiche. L'indagine sull'iconografia dei periodici scientifici sta conoscendo in questi anni un grande rigoglio. Si dispone di importanti sondaggi per le riviste francesi, a partire dal capostipite, il giornal de Savant. Per l'Italia i dati sono ancora frammentari e limitati. Un mio spoglio iniziale, delle annate del tomo 36 al tomo 50, di una delle maggiori riviste erudite del tempo, la raccolta di opuscoli scientifici e tirologici di Angelo Caloggerà, mostra soluzioni testuali ancora oscillanti. Dall'inserto dell'immagine fuori testo in fogli non numerati, immagine nuda, del tutto priva di didascalia, annotazioni o altro, e orfana di rinvida al testo degli articoli, si passa attraverso esempi ibridi, specialmente per articoli di argomento matematico o fisico e per le trascrizioni di epigrafi, a più complessi organismi paratestuali, con tavole che si articolano in più illustrazioni, alcune che oggi diremmo di tipo analogico, per esempio le mappe, altre più tecniche con spaccati di elementi architettonici, misure, grafismi, apparato ricchissimo di note e di didascalie e un accurato sistema di rinvii dalle pagine del testo ai sussidi iconografici. A metà del secolo l'erudizione italiana sembra accogliere ancora un po' timidamente le suggestioni internazionali, che troveranno nelle oltre 3.000 tavole illustrate dell'Encyclopedie di Diderot e d'Alembert la più compiuta e splendida realizzazione. La nuova scienza dell'età dei lumi procede ormai organicamente a ridefinire i confini dei saperi, a razionalizzarne le terminologie, a perfezionare la prosa didascalica e divulgativa ed affiancare il codice verbale al codice visivo per una più completa opera dell'educazione dei sensi alla comprensione del reale. Mascheroni era senz'altro all'avanguardia nelle conoscenze scientifiche. La recente storia della matematica curata da Bruno D'Amore e Silvia Sbaragli dedica alcune pagine al suo trattato sulla geometria del compasso e all'aneddoto dell'incontro con Napoleone durante il quale avrebbe dimostrato un teorema sui triangoli che aveva messo in difficoltà persino il Lagrange. Tuttavia la sua scelta di affidarsi alla poesia per descrivere il Museo Pavese appare ormai attardata. La crisi del verso come mezzo per comunicare la scienza aveva cominciato a manifestarsi già negli anni Sessanta. In un recente articolo negli atti a memoria della nostra Accademia, William Spaggiari ricorda come nel saggio sull'innesto del vaiuolo che chiude nel 1766 la breve stagione del caffè, Pietro Verri scrivesse che solo il vocabolario della scienza poteva tentare di spiegare la natura del contagio e dell'epidemia. E segnala Spaggiari il progressivo ridimensionarsi della convinzione che il testo poetico fosse uno strumento davvero utile a fissare e illustrare gli erimenti di un diverso paradigma di coscienza e conoscenza. La razionalizzazione dello studio delle scienze con il relativo cambio radicale di mentalità che avviene a metà del secolo mette ai margini questo strumento, lo strumento poetico, rispetto ad altri più moderni, anche per la divulgazione. E ormai ci si rende conto, come ha scritto Andrea Battistini, che dopo tanti tentativi la poesia non può più fare propri gli argomenti di una scienza che nel frattempo si è sempre più specializzata e allontanata dal linguaggio comune e a maggior ragione dal linguaggio poetico. E forse ci si rende anche conto che nonostante la sua forza prurisensoriale evocata da Beccaria, la poesia non è più capace di sostituire le formule e le figure. Grazie. Allora grazie Riccardo, hai tenuto insieme un intero secolo di testi, questioni, lingua, autori e adesso abbiamo tutto il tempo per farti qualche domanda e quindi apro la discussione se c'è qualcuno che vuole intervenire. Allora vabbè in attesa che qualcuno maturi una domanda, te ne faccio una io, che riguarda il rapporto tra testo e commento nella poesia scientifica perché diciamo dalla mia specola del latino questo costume di fornire la poesia scientifica che in quel caso erano poemi, sto parlando dei poemi latini dei gesuiti, appunto i grandi maestri di poesia scientifica in Europa già a partire dal 600, tutti quei poemi sono corredati di apparati di nodi enormi che spesso sono scritti non dagli autori ma da altri confratelli gesuiti e poi se li scrivono a vicenda cioè Boscovich commenta Noceti, Noceti commenta Boscovich. Ecco mi chiedevo ma a livello di curiosità, si sente forse non aveva qui con la mascherina, come interagisce appunto questo mondo dei grandi poemi latini scientifici dotati di un apparato di commento enorme con appunto col mondo che tu ci hai appena descritto anche perché effettivamente questi commenti servono poi a tradurre in un lessico scientifico tecnico, cioè a spiegare per filo e per segno di che cosa si trattava e sono tutti poemi senza immagini. Ora ci rifletto per la prima volta dopo che tu ne hai parlato, non c'è traccia di un'immagine e appunto mi chiedevo se si chiede qualche relazione. Io non ho la competenza che hai tu della poesia latina e dei commenti latini, però la mia diciamo risposta dall'esperienza che ho avuto io, dalla lettura e dalle letture anche degli studi importanti che sono stati fatti anche recentemente al convegno dello scorso giugno sulla poesia anche italiana e nel caso specifico del Crescimbeni siamo in una, direi in uno scambio di tipo diverso, cioè i versi di Crescimbeni non sono destinati alla circolazione sicuramente tra gli scienziati, anche se poi volta li legge e li utilizza, ma a una circolazione più divulgativa, più appunto per la dama, la contessa non esperta di scienze. Quindi quell'apparato di note che è interessante ma comunque ridotto, non è un apparato così sovrabbondante come quelli di cui parli tu per la poesia latina, serve per il lettore non esperto, mentre appunto Boscovici e Noceti erano tutti scienziati e quindi era come se fossero quelle note un dialogo, un ulteriore approfondimento di quello che dicevano i versi. Questa è la mia impressione. Sì, effetti io quelle note non le ho mai lette, insomma ovviamente perché sono illegibili. Però le ho scorse e l'impressione che ne ricavavo, ma appunto senza realmente conoscere questo mondo che ora tu ci hai illustrato, era che insomma quelle note si potevano pubblicare separatamente come trattati di fatto, anzi alcune erano dei veri e propri trattatelli, potevano uscire come articoli di giornali. Infatti Mascheroni dice leggetevi l'articolo, cioè quando l'argomento è troppo impegnativo dice vabbè io nella nota riduco, vi dico che quelli di cui parlo come aerate sono i gas e sono l'ossigeno e l'idrogeno, però se volete studiarveli vi dico leggetevi gli articoli, insomma, vi rimando a un'altra tipologia testuale, mentre forse in epoca precedente nella poesia di Rascalica latina e direi anche italiana, il dialogo avveniva nelle note, anche se da quello che ho visto io, gli apparati di note nella poesia italiana non sono così frequenti, nella poesia latina evidentemente sì. Anche questa è una cosa che ti volevo chiedere, quanto poi andando a scavare in questo mondo appunto vastissimo e per noi ipogeo ormai della poesia scientifica, per te no, ma insomma della poesia scientifica del Settecento, quanti fossero i testi che si presentano? In alcuni casi ci sono le note, però non sono così frequenti. Bene, allora grazie per... Vediamo un po' se c'è qualcuno che ha qualcosa da chiederti. Dietro può portare il microfono. Grazie. San Piero Maragoni. Dunque, i numerosi e appassionanti temi affrontati dal professor Guardo, proprio perché numerosi e appassionanti sono a me totalmente ignoti, però prendo la parola perché l'interesse dell'invito di Mascheroni è straordinario, me ne sono potuto accorgere stasera dopo molto tempo, che avevo accantonato quel componimento, in ordine proprio alla storia del linguaggio poetico italiano. In mani, afriche, belve. Un aggettivo che indica le proporzioni, un aggettivo che indica il riferimento geografico è un sostantivo, in mani, afriche, belve, vaste, californie, selve, dell'inno ai patriarchi di Leopardi. La costruzione è identica, è identica, e c'è anche la rima. Non solo, in occhiute, leggerissime, faville, o ricordo male? Farfalle. Farfalle. Ecco, occhiute riporta al tasso della minta. Ma non c'è solo occhiute, lo stilema dell'elativo in giacitura mediana, che risale a Dante, Dante soprattutto del Paradiso, per essere proprio inquissima ad Augusta, in tasso ha un lancio straordinario di poema dignissimo e di storia, onorate l'altissimo campione, di punte mortalissime l'offende, ed è quello che Mascheroni riproduce, occhiute leggerissime faville con le tre silabe che chiudono il verso. Oltre a questo, liquefatte viscere dell'etna. Ecco, qui il participio passato è restituito al suo valore verbale, perché non è solo liquide, è viscere che sono state rese liquefatte, un uso strabocchevole di questo stilema, sia niente meno che nella prosa di colletta. Non so se definirla puristica, non puristica, non sono in grado di offrire, ma l'uso insistito e rilevato di questo participio passato, con pretta funzione verbale, in colletta è osservabile. Quanto poi al tema della descrizione in movimento, della descrizione che corrisponde a una passeggiata o perfino a un viaggio, lasciamo perdere il viaggio sul Reno, insomma, ma è un tema già molto secentesco. La canzone sulla villa Aldobrandini di Frascati di Marino dovrebbe metterci sull'avviso e non è l'unico componimento secentesco che per il resto poi si può risalire al plinio dell'epistolario, eccetera, eccetera. Due ultimi accenni. Sì, Luciano Canfora ci ha insegnato, e credo che dobbiamo essergli negrati, che l'enciclopedia è un testo propagandistico, è un testo di battaglia, in quanto tale, rivolgendosi a un pubblico diverso da quello dell'erudizione tradizionale, abolisce, o quasi, le note. Basta con le note. Molte illustrazioni, ma note quasi punte. Ecco, questa antitesi o questa dicotomia tra note e illustrazioni in effetti compare in qualche modo anche negli intendimenti di Mascheroni o aggirata o dissimulata o voluta rimediare, eccetera. E quanto poi l'intervento del nostro custode sui gesuiti che anticipano la funzione scientifica o didascalica della poesia, c'è sempre da ricordare che il più grande allievo di Galilei è un benedettino, Castelli. È, se non sbaglio, un gesuato, cioè sa chi, che per primo si fa venire in mente la possibilità di una geometria non euclidea. E, stando al giudizio di chi se ne intende, Kircher, su cui si è molto polemizzato, anche con accenti di profondo disprezzo, di ingiuria, è un imbroglione, è un ciarlatano, è forse il primo che intuisce la natura della luce come sia corpuscolare sia ondulatoria. Quindi, qui si avve tutta una prospettiva nuova da esplorare e approfondire sul rapporto tra scienza e ordini religiosi tra 6 e 700. Grazie. Sì, mi sembra che l'intervento sia solo un arricchimento prezioso ad alcune osservazioni molto superficiali che ho potuto fare io. La questione del rapporto note-immagini è senz'altro corretta. Mi interessa, per esempio, il sistema molto articolato che le tavole dell'enciclopedia organizzano nei rinvii interni al testo, perché è vero che mancano le note, però c'è una indicizzazione precisissima, c'è un'architettura del testo che consente al lettore di recuperare tutti i riferimenti anche senza bisogno delle note, senza le annotazioni alle immagini pubblicate nella stessa tavola. Insomma, quindi l'idea è quella di concepire una lettura che sia al tempo stesso gradevole alla vista e quindi istruttiva per la vista, ma poi fortemente collegata con il testo verbale. Insomma, quindi grazie, veramente molto, sono molto grato. Allora, bene, vediamo se c'è qualche altra domanda, se no se ne faccio ancora una io, però se no, se tu cresci in beni. Allora vado. No, appunto tu hai citato l'Arcadia di Cresci in beni, dove sono appunto descritti questi fantastici, uno direbbe, musei fantastici nel senso frutta di fantasia, lo scientifico e l'antiquario. Ecco, ma mi chiedevo appunto se sotto la finzione pastorale c'è una realtà o c'è una prefigurazione di realtà, appunto, questi musei successivi di cui tu ci hai parlato che tengono insieme l'elemento antiquario con l'elemento scientifico. Il nesso è stato studiato da Alessandro Ottaviani nei suoi articoli che ho letto con grandi, insomma, non tutto ho potuto leggere, ma insomma ho letto con grande, imparando tantissime cose, questo nesso tra la raccolta antiquaria e il collezionismo che si sviluppa, quindi, e che poi nella finzione di Cresci in beni è naturalmente idealizzato, insomma, però c'è una, ci sono uno dei contatti diretti con la ricerca, insomma, se non ho letto male, con le scoperte che venivano fatte di tipo archeologico, di tipo naturalistico, insomma, quindi senz'altro. Cresci in beni in quei testi ci figura, ci fa vedere proprio un allestimento certe volte, no? Sì, sì, appunto. Ti chiedi, appunto, se sia... Un'organizzazione degli oggetti, insomma, una presentazione degli oggetti, quindi una... che è, che prefigura la collezione poi delle mirabilie, insomma, poi prefigura o riprende, insomma. Mi chiedevo quanto prefigurassi, appunto, di quello che poi ci hai fatto e di cui ci hai parlato tu nella tua conferenza. Ebbene, allora... Sì, Pietro Vetteruti. Ringraziandoti per questo percorso attraverso generi letterari, tipologie testuali, soltanto una richiesta di approfondimento. A un certo punto hai parlato, appunto, di un progetto relativo alle pubblicazioni scientifiche, alle riviste scientifiche. Volevo qualche parola in più sul progetto, su quali riviste italiane, se all'interno, appunto, di questo censimento una rivista come il giornale arcatico... può figurare o no, e, appunto, se, diciamo, i testi scientifici pubblicati all'interno della rivista dell'Accademia, a quale di questi ambiti possono appartenere, oppure se a più genere, a più tipologie, se hai avuto modo, insomma, di fare qualche piccolo sondaggio. Grazie. Dunque, il progetto non è un progetto mio, è un progetto che è stato avviato a Verona da un gruppo di ricerca, a cui io poi mi sono affiliato, in qualche modo, da Sabine Schwarz, Corrado Viola, quindi, tra l'altro, alcuni anche a Arcadi, ed è un progetto che tra poco, di cui tra poco uscirà una prima testimonianza, cioè gli atti di un convegno che si è tenuto proprio a Verona lo scorso anno, che stanno per uscire, sono ormai le seconde bozze, e ci sono esperti di storia dell'editoria italiana, francese, inglese, tedesca, linguisti, letterati, per cui l'arco delle riviste studiate può benissimo comprendere anche le riviste dell'Arcadia, insomma, quindi le pubblicazioni dell'Arcadia. Quindi, diciamo, l'idea è quella di partire, per prima cosa, dalle traduzioni delle riviste scientifiche francesi, traduzioni o adattamenti, o di quelle inglesi, per esempio, le riviste come Lo Spectator di Addison, e quindi tutta quella traduzione di riviste, quella linea di riviste pre-giornalistiche. Però, naturalmente, lo spazio è quello di fare un censimento e uno studio più approfondito anche dei testi che sono pubblicati in diverse riviste. Nel sito che io ho indicato, di cui c'è anche il collegamento nelle diapositive, già c'è una prima serie di proposte di lavoro. Quindi, senz'altro, io penso che l'Arcadia deve per forza, in qualche modo, essere coinvolta anche in questo progetto. Grazie. Allora, bene, grazie Pietro. Vediamo se ci sono... Sì, c'è Stefano Crescenzi, che è un dottorando che sta facendo l'edizione critica delle prime di Crescindente. Sì, io proprio appunto sulla lingua mi interrogavo su quanto siano effettivamente pervasive le parole composte in questi componimenti, perché ho notato che Crescimbeni stesso, tra la prima edizione delle rime e la seconda edizione, sostanzialmente riduce fortemente l'utilizzo di parole composte. Magari parole composte utilizzate specialmente magari nei dirambi, quando poi arriva a pubblicare i componimenti nel passaggio tra la prima edizione e la seconda, intanto è entrato nella rusca. E quindi sicuramente questo è un fattore importante, però le va ad eliminare, magari utilizza delle perifrasi. Quindi effettivamente quanto questa tendenza, diciamo, che magari è, per Crescimbeni, che magari parte da un modello vicino a Chiabrera che poi dopo, insomma, in qualche modo dal quale si allontana, quanto effettivamente poi fa scuola, diciamo, soprattutto poi magari in componimenti scientifici in cui effettivamente, come qualcosa abbiamo visto, c'è bisogno di parole nuove magari e quindi anche di parole composte. In realtà non sono in grado di rispondere con precisione a questa domanda, cioè se ci sia un effetto scuola da parte del modello di Crescimbeni, che Crescimbeni riduca il tasso di composti di questo tipo grecizzanti, può forse dipendere appunto da una scelta di depurazione di modelli secenteschi. Quindi questa può essere un'ipotesi. Però il modulo resiste ancora per tutta la poesia neoclassica, quindi non viene abbandonato. Nell'invito a lesbia ci sono alcuni esempi, che tra l'altro sono esempi abbastanza rari, perché Vario Ardenti credo che sia un apax nella poesia italiana. Quindi se non ho visto male, comunque nei vocabolari è indicato come unico esempio. Poi naturalmente ce ne sono altri formati allo stesso modo. Quindi il modulo, il modello rimane attivo sull'utilizzo per rappresentare la scienza. Certo la capacità di Mascheroni, come è stato detto poco fa, di scegliere in pochi aggettivi, di dare in pochi aggettivi alcune informazioni scientifiche interessanti, è notevole perché fu subito apprezzato non soltanto per la qualità poetica, ma anche proprio per l'intelligenza con cui utilizzava il lessico. Però, francamente, non sono in grado di dire se il modulo specifico dell'aggettivo grecizzante avesse una funzione particolare. A questo non so dare una risposta. Allora, bene, vediamo se c'è ancora qualche domanda o intervento. Mi sembra di no. Dunque, va bene, d'accordo. Allora, ringraziamo, ringrazio io e ringraziamo tutti Riccardo Ubaldo per questa bellissima conferenza di cui aspettiamo il testo per gli atti e memoria a questo punto. E ringrazio tutti voi per essere venuti qui questa sera così numerosi, nonostante la situazione generale. Quindi grazie e buona serata a tutti. Grazie. Applausi Grazie.